Questa è la frazione Cavalieri, siamo in provincia di Messina, a Sabonara. Gli scomparsi e i decessi, dove sono avvenuti? A Scarcelli. Uno giocava, il bambino giocava con mio figlio, a dieci anni. Quindi lei lo conosceva questo bambino? Certo, conosco la mamma pure, certo, tutti. Proprio in questo momento l'esercito e gli uomini della protezione civile stanno scavando per cercare i resti del padre e del figlio scomparsi, travolti dall'ondata di fango. Qui siamo nella frazione che si chiama Scarcelli. Buonasera, sono di là a Visticilia. Ma per prevenire questo rischio idrogeologico che c'è qui in provincia di Messina, è stata fatta qualcosa? Fatta no, fosse peggiorato un pochettino, l'ho fatto. Ma si sa fare contro questa natura. Volete mandare un messaggio ai politici siciliani e anche agli onorevoli e ai senatori nazionali? Sarebbero parole non adeguate. Non adeguate. Ai politici locale anche comunque, non solo quelle a Roma.